Eccoci tornati in studio, vi avevo promesso una sorpresa, eccola qui la mia collega Roberta Sias. Grazie Riccardo Borgia per l'invito, oggi insieme parleremo di salute, parleremo nel dettaglio di SLA e mondo del calcio e lo faremo con la dottoressa Elisabetta Pupillo, buonasera dottoressa. Buonasera. Ecco dottoressa, io direi di partire subito da una fotografia dei casi del punto epidemiologico se sia più colpito il sesso maschile o femminile per quanto riguarda la SLA, poi ci rufferemo nel mondo del calcio. Allora, nella popolazione generale è maggiormente colpita la popolazione maschile. Assolutamente, per quanto riguarda invece la frequenza, dando un po' di dati, ecco di esordio, l'età normalmente? Solitamente intorno ai 63 anni, 63-65 anni. Beh vedi, comunque già abbiamo dei dati certi perché è importante ricordare Riccardo che noi stiamo andando a indagare quello che molte volte viene appunto definito come il male oscuro dei calciatori. Esatto, esatto. Ecco dottoressa, ruffiamoci subito nel mondo dello sport e nel dettaglio, nel mondo del calcio, come si lega una malattia del genere al mondo del calcio? Non la leghiamo, giusto per essere chiari fin da subito, nel senso che noi ancora oggi non conosciamo l'eziologia, quindi l'origine di questa malattia, che cosa porta le persone ad ammalarsi. Sono stati studiati numerosi fattori di rischio e molti di questi fattori sono presenti nel mondo del calcio, ma noi non pensiamo assolutamente che sia colpa del gioco del calcio, ma semplicemente che in questo setting ci siano delle condizioni che magari radunano più fattori di rischio. Ecco, quale dottoressa possono essere magari queste condizioni? Leggevamo insomma lo stress, gli infortuni, ma anche è arrivato insomma notizia da uno studio la qualità dell'erba e dai pesticidi soprattutto utilizzati nei campi di calcio. Allora sì, i fattori di rischio come vi dicevo sono studiati, sono numerosi, purtroppo non siamo mai riusciti a trarre delle conclusioni conclusive, anche se gli studi che sono stati condotti sono stati disegnati e svolti con una metodologia corretta, quindi ad oggi non possiamo trarre delle conclusioni. Il fattore di rischio più, diciamo che è stato confermato più volte, che quindi riteniamo possa avere un peso significativo nell'insorgenza di questa malattia, sono i traumi, soprattutto i traumi ripetuti e nel gioco del calcio i calciatori ovviamente sono soggetti anche a microtraumi ripetuti, sia in fase di allenamento che di gioco. Altri fattori di rischio studiati ma con risultati contrastanti tra di loro sono stati l'attività sportiva eseguita sia a livello di piacere che a livello sportivo, sia per quanto riguarda il lato lavorativo, abbiamo studiato, non abbiamo studiato, sono state fatte delle ipotesi sui cianobatteri e sugli erbicidi, però non ci sono dei dati che ci permettono poi di analizzare, di studiare, di trarre delle conclusioni su questi fattori, anche perché consideriamo che comunque dovremmo andare a risalire negli anni quali sono stati gli erbicidi utilizzati su ciascun campo, in quale quantitativo e a mia conoscenza non esistono dei database in merito. Voi avete condotto uno studio che io vorrei insomma mostrare perché abbiamo proprio analizzato attraverso uno scroll visto che lei appartiene all'istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, uno studio comunque sui calciatori in un determinato periodo, tu sicuramente Riccardo te li ricorderai perché tu sei un appassionato, no? Dal 1900 giusto? Esatto, sì, soprattutto l'ultimo forse appannaggio delle cronache è sicuramente Stefano Borgonovo che ha mostrato diciamo al mondo e al mondo del calcio questa terribile malattia. Ecco, guardando un po' allo studio c'è una percentuale che comunque stupisce addirittura di questa malattia che lo ricordiamo degenerativa, perché la SLA è una malattia degenerativa, che è la sclerosi laterale amiotrofica, addirittura ne sono deceduti circa 41 e c'è una percentuale che però stupisce perché c'è una percentuale di circa 7 volte superiore a quella della popolazione generale, di come vengono colpiti insomma gli stessi calciatori. In questo studio mettevate in evidenza anche l'elemento dei pesticidi, ecco tutti si stanno domandando se effettivamente esista o meno comunque una connessione, però un qualcosa sicuramente andando anche a vedere questo studio che avete condotto, ci deve essere, perché ci deve essere per forza una correlazione anche con questo stile di vita nello stress agonistico. Mi permetto di correggerla sui numeri perché per noi epidemiologi i numeri sono importanti. Noi abbiamo accertato 34 soggetti che si sono ammalati nel periodo del nostro studio, quindi dal campionato 59,60 al campionato 99,2000. Prima ma soprattutto dopo ce ne sono stati anche altri che quindi non sono rientrati nella nostra casistica, però in realtà noi abbiamo trovato un rischio doppio, non di 7 volte, doppio rispetto alla popolazione che diventa di 6 volte tanto se andiamo a suddividerli in serie A, B o C. Però questo riteniamo che sia non un reale rischio che è di 6 volte tanto in serie A rispetto alle altre serie, ma semplicemente dovuto al fatto che arrivano agli onori della cronaca prevalentemente i giocatori di serie A e quindi probabilmente tutti gli altri noi non ne abbiamo conoscenza, non che non ci siano, quindi potrebbe esserci un bias diciamo di fondo su questo dettaglio. Noi non abbiamo potuto studiare gli erbicidi, li abbiamo soltanto elencati tra le possibili cause che però non abbiamo modo ad oggi di confermare o di smentire. È risaputo che tra gli agricoltori anche ci sia un'insorgenza in alcune zone più alta di SLA, quindi anche quello è un cluster, però anche qui purtroppo non siamo ad oggi in grado di trarre delle conclusioni perché non ci sono delle informazioni solide in merito. Sì, mi devo correggere giustamente sul dato perché non era lo studio naturalmente che riportavate voi, ma era lo studio del quotidiano britannico Times, giusto insomma che dovevo ricordare, giustamente non quello che stavamo mostrando in scrolle, in sintesi purtroppo tantissime persone però si stanno comunque soffermando proprio sulla connessione, l'ipotesi perché giustamente lei ha fatto bene a ricordare, sono ipotesi, poi c'è naturalmente uno studio che verrà condotto anche più avanti perché comunque dei casi ci sono stati ecco. Sì sì sicuramente, ad oggi non abbiamo i dati, ad oggi non ci sono possibilità di approfondire questo argomento ma è tra diciamo la lista delle cose che nel mondo dei ricercatori si sta cercando di affrontare. Ecco dottoressa, io vorrei aprire un po' sempre per quanto riguarda l'argomento sport, ci sono dei dati invece che aprono ad altre discipline sportive perché lei mi parlava di microtraumi però il calcio sicuramente non è quello sport più soggetto ai traumi, penso a rugby, penso al football americano, diciamo ci sono sport più aperti a questi a questi traumi però si è deciso diciamo di dimostrare al mondo dei casi relativi soprattutto al calcio, forse per avere una pagina più ampia di pubblico e sensibilizzare meglio il pubblico a questa malattia. Allora gli ambiti sono diversi, innanzitutto la SLA è una malattia rara quindi per poterla studiare abbiamo bisogno di un campione molto ampio, negli Stati Uniti è stato studiato il football americano, la NFL e ci sono due studi che riportano dei risultati tra di loro un po' contraddittori, sono stati confrontati anche contro i giocatori di baseball che però hanno una loro storia particolare, chi va a giocare a baseball solitamente in precedenza ha già svolto altri sport e vi arriva a livelli diciamo più agonisti in un'età più avanzata. Quindi dobbiamo partire innanzitutto ad avere una corte, quindi un gruppo di soggetti molto numerosi per riuscire a trovare anche solo un caso. Sono state fatte delle indagini anche in Italia sui giocatori di basket e sui ciclisti però stiamo parlando di numeri molto piccoli seguiti per periodi di tempo molto brevi. Quindi in realtà è per questo che io prima dicevo che non è il calcio il problema o il diciamo la causa, il calcio è il mondo del calcio è un setting ideale dove noi possiamo andare a studiare una malattia rara perché all'interno di una corte molto ampia noi possiamo trovare dei casi, se invece vado a studiare uno sport meno rappresentato ovviamente non troverò nessuno. In Italia in modo particolare ma in Europa noi sappiamo che lo sport maggiormente più diffuso dove potremo trovare dei soggetti è il calcio. In particolare in Italia abbiamo gli almanacchi panini che sono quelli che raccolgono l'elenco di tutti coloro che hanno giocato anno per anno, serie per serie, ruolo per ruolo e che sono tutte informazioni validate dalle società sportive. Quindi per noi questa è una fonte di dati essenziale, fondamentale che è stata alla base di tutto il nostro studio. Dottoressa, proprio a conferma di quello che stai dicendo, ricitando proprio questo studio che è stato condotto dal Quotidiano Britannico, il Quotidiano Times proprio aveva messo in evidenza come la connessione appunto tra la SLA e il calcio fosse quasi un mistero, lo ha titolato così tutto italiano perché non aveva riscontrato la stessa connessione appunto invece per esempio con i calciatori francesi e con i calciatori appunto spagnoli. Questo perché sicuramente lo ricordiamo che in Italia, lo ha detto anche lei, il calcio è uno sport molto praticato che permette di fare proprio un campione insomma anche grande di studio dal punto di vista anche delle ipotesi da sviluppare. Andando un pochino più nel dettaglio di quello che può interessare anche nell'ambito sanitario, quali accertamenti normalmente sono indicati comunque nel sospetto della sclerosi laterale amiotrofica? Molte volte si parla tantissimo anche di questa R-Mosha, no? Me lo confermerà? No, no, allora il problema è... No, non è che è sbagliato. Allora, il paziente si accorge di avere qualcosa che non va perché ha magari difficoltà nell'articolare le parole e noi sappiamo che nell'articolare le parole la R è una diciamo tra le cose più difficili che i bambini imparano, quindi forse è legato a quello la questione della sclerosi. Però ecco c'è un'iniziale difficoltà a parlare, a deglutire oppure a fare dei movimenti fini con la mano oppure un piede che si incomincia a trascinare e quindi il paziente che nota queste difficoltà va dal medico che di solito lo indirizza subito dal neurologo e si fa quella che viene chiamata la diagnosi differenziale, quindi in primis si escludono altre patologie che possono essere più diffuse e che ovviamente combaciano con i sintomi che il paziente riporta per andare poi man mano ad approfondire sempre di più l'aspetto e andare a capire se ci sono dei problemi nei riflessi, si svolge quindi si svolgono subito tutti i riflessi, l'elettromiografia per vedere qual è la capacità dei muscoli di condurre l'impulso elettrico e poi si fanno anche delle risonanze e via dicendo a volte si fa anche l'analisi del liquor, poi dipende anche proprio dalla storia di ciascun paziente. Ecco lo ricordiamo comunque la SLA, dottoressa, è una patologia, l'abbiamo detto, rara e anche comunque invalidante perché è degenerativa quindi purtroppo insomma la qualità di vita viene completamente insomma illuminata molte volte e non solo, dalla SLA adesso ci sono comunque sul fronte del punto di vista delle terapie anche delle novità? Ho un po' perso il segnale, era una domanda? Sul fronte delle terapie a che punto siamo visto che comunque è una patologia degenerativa? Allora sì, il problema di questa malattia è che noi i pazienti si rende conto di qual è che ha un deficit nel momento in cui ha già perso il 75% dei neuroni motori. Di conseguenza la malattia è già molto avanzata e questo rende anche molto difficile riuscire a trovare delle cure in merito. Attualmente abbiamo approvato e a disposizione soltanto un farmaco che si chiama Riluzzolo che però oltre a portare a parecchi effetti collaterali a livello epatico il supporto che porta è un allungamento, un'estensione della sopravvivenza di 3-4 mesi senza purtroppo modificare in senso positivo, migliorare la qualità di vita del paziente. In Italia attualmente non ci sono altri farmaci specificatamente approvati, ne sono stati testati numerosissimi, molti purtroppo hanno dato esito negativo, altri sono attualmente in fase di sperimentazione, abbiamo in corso anche delle terapie con cellule staminali e altre terapie invece mirate su una categoria particolare di pazienti che vengono chiamati SOD1, quindi che hanno il gene della SOD1 mutato, però è una categoria particolare perché è la SLA di origine familiare. Ecco la familiarità infatti lo ricordiamo, è una insomma anche dei dati forse che più certi neanche abbiamo, comunque su cui magari navighiamo con più sicurezza? La familiarità è nel 10% dei soggetti, quindi purtroppo, per fortuna, insomma è una categoria poco rappresentata. Ecco dottoressa, in chiusura, quali potrebbero essere le tappe che la scienza italiana ma anche internazionale che dovrà percorrere per riuscire ad aumentare magari questa specializzazione in questa malattia per chiaramente aumentare anche i metodi per le cure e soprattutto per rendere chiaramente la vita al paziente migliore sia relativamente sicuramente allo sport ma anche alla vita di tutti i giorni? Ma allora, le tappe da fare sono sicuramente un approccio multidisciplinare perché ovviamente la malattia va affrontata da diversi punti di vista, non soltanto sull'eziologia, non soltanto la terapia, non soltanto la genetica ma dobbiamo essere in grado di mettere insieme tutti questi aspetti proprio per riuscire poi a migliorare la qualità di vita e non è da escludere anche l'ingegneria, quindi tutto ciò che può essere robotica per migliorare la vita del paziente che nel momento in cui non è più in grado di muoversi in autonomia magari con dei supporti può svolgere qualche azione. Io quello che penso che possa essere la cosa più importante ad esempio per una mamma o per un papà che ha dei figli è di poterli abbracciare, quindi credo che sicuramente dobbiamo avere un approccio multidisciplinare, ma una cosa molto importante è la capacità dei ricercatori di lavorare in rete, di essere squadra e di non guardare al singolo traguardo ma di essere davvero umili e metterci tutti quanti insieme perché altrimenti non arriveremo da nessuna parte. In questo gioco ovviamente devono giocare anche le multinazionali e i nostri stati perché se non ci mettono a disposizione i fondi, se non ci credono nella ricerca, noi non possiamo andare da nessuna parte. Il resto poi è stato fatto con l'emergenza epidemiologica da Covid per la ricerca e soprattutto i vaccini messi in campo in così poco tempo. Assolutamente sì, questo è stato un grandissimo esempio di collaborazione e di messa a disposizione proprio dell'intera popolazione e delle nostre conoscenti. Purtroppo il Covid è stata una pandemia, per fortuna la SLA non è così tanto rappresentata e questo però è anche la sfortuna diciamo perché ovviamente nel momento in cui ci sono meno pazienti c'è meno interesse economico e purtroppo sappiamo benissimo che l'economia è ciò che muove gli interessi. È una amara verità, assolutamente. Grazie dottoressa per averci illuminato sia dal punto di vista sportivo sia per le tappe che bisognerà poi seguire sia dalla ricerca scientifica sia da noi tutti per progredire chiaramente sullo sviluppo e sulla ricerca di questa malattia. Grazie a voi. Ecco ringraziamo appunto la dottoressa Elisabetta Pupillo dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri per averci appunto esposto in più dettagli la SLA e il rapporto che ha appunto con lo sport. Roberta io direi di andare a ricordare gli appuntamenti questa sera. Oggi c'è un appuntamento importante alle 21. Esatto. Questa sera ci sarà la squadra dell'Università Nicolò Cusano, la Ternana al momento più 11 sull'inseguitrici ma il Bari ha appunto perso il match nella giornata di ieri e diciamo che l'altro appuntamento appunto è sempre l'ABC del calcio venerdì alle 18.30 fino alle 19.30. Grazie Roberta. A questo punto ricordo anche la mela no? Perfetto. Domani appuntamento mi raccomando 21.30 con una mela al giorno condurrò sempre col mio compagno non sei tu vabbè questa volta Andrea Lupoli comunque in prima serata tantissimi temi sanitari mi raccomando seguitici sul 264 grazie Riccardo per l'ospitato. Grazie Roberta Sias. Noi ci fermiamo qui continuate a seguirci sul canale 264 del digitale terrestre un saluto da Riccardo Boccia.